Su Pokémon è possibile fare così tanti danni da curare l'avversario. Sembra assurdo ma lasciate che vi spieghi. Avete bisogno di un Kyogre a livello 100, di una bacca grana e di un avversario molto debole. Utilizzando una bacca grana su un Kyogre con un solo PS, a causa di un glitch, i PS scenderanno a zero senza che il Pokémon risulti esausto. Infatti il gioco non essendo studiato per questa eventualità, per qualche motivo penserà che Kyogre abbia ben 65.535 punti salute. Utilizzando ora la mossa Zampillo, che fa più danni a seconda di quanti PS al Pokémon utilizzatore. Contro un Pokémon abbastanza debole, è possibile che il danno inferto sia talmente alto che il gioco lo convertirà in un numero negativo, facendo di fatto sì che il Zampillo non diminuisca ma aumenti la vita avversaria. Non funziona solo con Kyogre, ma per vari motivi è il modo più semplice per realizzare questo glitch. Seguimi per altre curiosità a tema Pokémon.